Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio che questa mattina ha distrutto con... ...completamente una baita a Sovere. Non si esclude il Dolo, l'abitazione con il tetto e gli interni in legno al momento del rogo era disabitata. Per spegnere le fiamme sono intervenuti una sessantina di uomini dei corpi volontari di Sovere, Baselga di Pine, Bedollo e Segonzano con quattro autobotti. Li vedete all'opera, i proprietari rintracciati dai carabinieri sono di Cavalese.